Brutta avventura per un equipaggio dell'ambulanza india della Misericordia del Barghigiano con infermiera a bordo, rimasto coinvolto venerdì notte mentre era in servizio per coprire le chiamate del 118 in un incidente con un branco di cinghiali. Ad avere la peggio uno degli animali da anche l'ambulanza, tanto che tale è stato il danno, è stato necessario allertare subito la sede della Misericordia per l'invio di un'altra ambulanza, così da evitare di rendere non operativa la squadra del 118 di turno durante quella nottata. Il fatto è avvenuto nella zona di Pian di Gioviano sulla provinciale Lodovica. Cristina Barbetti, vice governatrice della Misericordia, si è detta sollevata per il fatto che il personale non ha subito per fortuna alcuna conseguenza, ma si è detta anche preoccupata per un danno al mezzo che crea problemi organizzativi ed anche economici al sodalizio. Perché le difficoltà che noi affrontiamo sono sempre tante e soprattutto per i mezzi. Questo è il mezzo d'emergenza e questo è un bel danno per noi. Siamo già alla ricerca anche di comprare una nuova ambulanza, perché noi facciamo talmente tanti chilometri e la regione ci impone che con 250.000 chilometri l'ambulanza deve essere nuova. È un'ambulanza del 2022, ha già quasi 80.000 chilometri e quindi noi dobbiamo metterci alla ricerca di comprarne una nuova. Chiediamo di fare il nostro meglio per continuare a garantire quello che è il nostro servizio, che è essenziale per la nostra comunità.